Quante volte i bambini dicono Mamma, mamma, non lasciarmi il buio Vero, eh? E di notte poi? Oh, ma hai svegliato! Eh, è buio! Succede, eh? Ma da oggi c'è Notturna Beghelli, la lampada portatile e ricaricabile che poi di notte si trasforma, fuori da spina, dentro la presa ed ecco che diventa una luce guida verde e soffusa Grazie, mamma! Fantastica! Notturna Beghelli, portatile per il buio, luce guida per la notte e in più luce d'emergenza